Con l'ultima lezione abbiamo completato la trattazione della sintassi relativa ai sostantivi, quella parte della sintassi che si occupa dei casi e della loro funzione all'interno della frase. Ora parleremo della sintassi del verbo, l'ultimo capitolo prima di passare alla sintassi del periodo in cui le diverse proposizioni sono messe a confronto tra di loro. La funzione del verbo è una funzione centrale all'interno della frase perché intorno al verbo viene costruita la frase stessa con l'indicazione di un soggetto e poi di tutti quanti i complementi che costituiscono il resto di questa sorta di menu che intorno al verbo viene inquadrata come se il verbo ne fosse l'ingrediente principale. Il verbo nelle lingue derivate dal latino e ovviamente nel latino stesso ha come sue caratteristiche il tempo e il modo, dunque viene organizzato secondo un sistema di tempi e un sistema di modi i cui rapporti danno vita a quella serie di connessioni che sono la sintassi. Per quanto riguarda i tempi, i tempi latini indicano, lo si è detto molto spesso, più un modo di essere dell'azione, un suo essere contemporanea, precedente o successiva rispetto a un'altra che è una effettiva collocazione all'interno del tempo medesimo, nel passato, nel presente o nel futuro. I tempi hanno anche un'altra funzione, quella di indicare se l'azione è stata svolta in un attimo oppure è stata svolta con una certa durata, per cui a volte alcuni tempi indicano la durata nel passato e altri invece la puntualità all'interno di quel passato e così via. I modi invece indicano il rapporto logico tra i versi, tra i erbi stessi, cioè se ci si trova dinanzi avverbi che rappresentano l'azione principale che coordina tutte le altre indicate nelle diverse proposizioni che seguono, ovvero ci si trovi in una proposizione che ha una funzione secondaria e comunque non così nettamente e dichiaratamente affermativa come nella proposizione principale. Salteremo la parte sui tempi che leggerete nel volume, limitandoci a ricordare che anche in latino come in italiano non sempre l'uso di un tempo è uniforme, ci sono dei tempi che possono avere delle sfumature, dei significati differenti in usi differenti, come in italiano abbiamo un presente che può valere per il passato, il cosiddetto presente storico. Cesare va a Roma, trova che essa è stata abbandonata da Pompeo e decide eccetera eccetera. In questa narrazione io ho messo al presente, anche se so che tutto questo è successo più di duemila anni fa, dunque è un'azione del passato, ma ho voluto usare un presente che attualizzi in qualche modo la vicenda, è un presente storico. Allo stesso modo per il passato è possibile avere due tipi di passato, un passato la cui azione sul presente è decisamente remota e non avvertita come particolarmente funzionante e un passato invece che è ancora carico di conseguenze sulla vita quotidiana. L'italiano per questo ha, o forse bisogna dire aveva, perché ci si sta avviando alla perdita di uno di questi due tempi, un passato remoto e un passato prossimo. Io ho lodato, io lodai. Nell'italiano corrente il passato remoto ormai si comincia a perdere e l'uso del passato prossimo prevarica rispetto al passato remoto. Il latino ha un unico tempo perfetto che però può assolvere entrambi i compiti, può essere un perfetto storico che corrisponde alla funzione del passato remoto italiano e un perfetto logico, cioè il nostro passato prossimo nel suo uso di un passato che però è ancora fortemente presente nelle sue conseguenze. Questo e non più di questo vi posso dire durante la lezione di oggi sui tempi, per il resto vi rinvio al libro. Cercheremo invece di dire qualcosa di più a proposito dei modi, ricordandovi che il latino dispone soltanto di tre modi finiti, a differenza dei nostri quattro, perché oltre l'indicativo, il congiuntivo e l'imperativo che sono presenti tanto in latino quanto in italiano, l'italiano ha il condizionale che il latino non ha. Vediamo adesso il primo dei modi, l'indicativo. L'indicativo è il modo più forte, il modo che nelle intenzioni dello scrittore indica qualcosa di assolutamente reale che non dipende dal nostro modo di vedere le cose, da una nostra soggettività o da una serie di vicende che sono superordinate a quella indicata dall'indicativo stesso. L'indicativo è il modo che si usa quando si constata che esiste un certo fatto. Però, siccome l'italiano ha un modo in più questo condizionale, può capitare alcune volte che l'indicativo latino corrisponda a forme che noi in italiano rendiamo meglio o soltanto con il condizionale. Vediamo alcuni esempi di costrutti che in latino hanno l'indicativo e che in italiano possono non volere l'indicativo o non volere solo l'indicativo. Nella schermata trovate Possum multa dicere de tribunatum militari Sed mi anteoculos versatur repubbliche dignitas Letteralmente, io posso dire molte cose sulla carica di tribuno dei soldati, tribunatus militaris, ma ho dinanzi agli occhi, mi si presenta dinanzi agli occhi, la dignità dello Stato. Ora, io posso dire molte cose, è una considerazione del fatto che ci sono molte cose che si possono dire, ma l'italiano, dal momento che non dice quelle cose l'autore, dal momento che vuole parlare di un'altra cosa, traduce con potrei dire molte cose, io a questo punto potrei dire ma dico queste altre. Quindi è uno dei casi in cui a un indicativo latino corrisponde piuttosto un condizionale nell'uso dell'italiano. E analogamente nell'altro esempio, che è un esempio di Cornelio Nepote, Longum est omnia enumerare prelia Annibalis, letteralmente è lungo elencare tutte le battaglie di Annibale, ma nella nostra traduzione sarebbe lungo, sarebbe cosa troppo lunga fare un elenco di tutte le battaglie di Annibale. E perciò non faccio questo elenco. Abbiamo due casi in cui nella traduzione italiana è preferibile l'uso del condizionale rispetto alla presenza dell'indicativo che abbiamo trovato in latino. Il caso del verbo possum è il caso di un aggettivo neutro con il verbo sum. Longum est sarebbe cosa lunga, sarebbe cosa troppo lunga. Vediamo un altro caso in cui ancora di più è evidente la necessità di usare una forma diversa in italiano rispetto a quella che troviamo in latino. È l'ultimo esempio della schermata. Ut Antonius redit in italiam, nemo non magno in periculo atticum futarat, propter intimam familiaritatem ciceronis et bruti. Quando Antonio tornò in Italia tutti avrebbero ritenuto in grande pericolo attico a causa della sua stretta amicizia con Cicerone e Bruto. Guardiamo questa frase. Troviamo tanto per cominciare un riferimento a una cosa che avevamo detto in una delle lezioni precedenti, mi sembra proprio l'ultima lezione prima di questa. nemo non, nemo non le due negazioni che affermano e siccome c'è prima nemo e poi non, l'affermazione va nel senso di tutti e non nel senso di qualcuno. Tutti, non c'era nessuno che non avrebbe ritenuto in grande pericolo. Putarat è una forma un po' particolare per dire putaverat, cioè il più che perfetto dell'indicativo. Il più che perfetto dell'indicativo sarebbe l'italiano aveva ritenuto. Se noi traduciamo con aveva ritenuto, quando Antonio tornò in Italia, tutti avevano ritenuto, non traduciamo bene. Perché non è vero che tutti pensavano a questo problema. C'era qualcuno che non se ne interessava proprio. Quello che è importante è dire che se ci avessero pensato tutti avrebbero ritenuto. E quindi è il condizionale, il modo che effettivamente nella nostra frase italiana rende quel concetto del rischio che avrebbe corso in quel caso attico o perlomeno che, nell'opinione della maggior parte delle persone, avrebbe corso attico. Vediamo qualche altro caso di indicativi particolari del latino rispetto all'uso dell'italiano. In questo caso, noi non facciamo riferimento a usi dell'indicativo latino che corrispondano a un condizionale nell'italiano, ma piuttosto a usi dell'indicativo latino in corrispondenza di un congiuntivo italiano. Cioè frasi che sono in latino all'indicativo e al momento della traduzione in italiano richiedono l'uso del congiuntivo. Questo avviene in particolare con i cosiddetti pronomi raddoppiati del tipo di quiz quiz che trovate nel primo dei due esempi o nel caso delle proposizioni concessive come è con il quamquam che trovate nel secondo esempio. Lus attulit dignitatis quis quis estille quis genuit in a curbe dicendi copiam quam illi qui castella expugna rerunt. Diede più nobiltà saltiamo per il momento quella proposizione quis quis estille colui che in questa città produsse l'abilità del parlare l'eleganza del parlare la ricchezza dell'eloquio che coloro che conquistarono le fortezze quindi l'abile avvocato l'abile oratore giova alla fama di una nazione più del grande generale cedant armatogge la frase famosa. Ora diede più nobiltà quis quis est quis quis estille chiunque egli sia diciamo in italiano qui ovviamente cicerone fa riferimento a se stesso dice chiunque egli sia capite bene sto parlando di me ecco questo è non voglio dire il mio nome ma voi lo sapete bene che sono io ora quis quis estille chiunque egli sia in italiano non si può dire diede più gloria chiunque egli è con il chiunque l'italiano richiede necessariamente il congiuntivo il latino richiede necessariamente l'indicativo nella frase seguente parliamo di una frase di Curzio Rufo la vita di Alessandro Magno Rossana sebbene camminasse fra fanciulle di prima fanciulle appartenenti a nobili famiglie a famiglie di grande rilevanza fece girare gli occhi di tutti verso se stessa e soprattutto gli occhi di Alessandro quindi Roxane Quamquam Proceserat Proceserat è un indicativo è un indicativo più che perfetto ma noi in italiano non possiamo dire Rossana sebbene era venuta sebbene in italiano si deve costruire con il congiuntivo quindi Rossana sebbene fosse avanzata insieme con sebbene fosse venuta insieme con e non sebbene era dunque un altro caso in cui il costrutto latino con l'indicativo rende necessario in italiano l'uso del congiuntivo e quindi una particolarità nell'uso dell'indicativo latino che ci spinge a una costruzione di altro genere l'indicativo è ancora il modo tipico per la resa delle proposizioni interrogative dirette questo è anche in italiano quando noi facciamo una domanda la domanda la facciamo prevalentemente con l'uso dell'indicativo noi chiediamo con l'indicativo l'interrogazione che viene fatta all'indicativo in latino viene però presentata in latino con dei segnali dei segnali che l'italiano non ritiene necessari in italiano la domanda viene fatta con le stesse parole con cui viene fatta l'affermazione sei andato a Roma sei andato a Roma se noi diciamo queste tre parole quattro parole sei andato a Roma le possiamo usare con una intonazione diversa tanto per fare la domanda quanto per fare una affermazione il latino invece quando introduce una domanda usa sempre un segnale di domanda che può essere o un pronome interrogativo chi o un aggettivo interrogativo quale o un avverbio interrogativo dove in mancanza di pronomi aggettivi o avverbi che indichino di per sé l'interrogazione introduce una particella interrogativa la particella interrogativa in latino ha anche una funzione in più di farci capire subito se quella è un'interrogazione reale o una interrogazione retorica le interrogazioni infatti si dividono in due categorie sono reali quelle che effettivamente vogliono una risposta senza che si sappia prima se la risposta sarà sì o sarà no sono retoriche quelle che invece presuppongono che il parlante sappia già qual è la risposta e voglia soltanto una conferma dall'interlocutore voglia costringere l'interlocutore a rispondergli in quel modo nei tre esempi che vedete nella schermata abbiamo nel primo caso una interrogativa in cui si chiede veramente una risposta senza sapere in partenza quale potrà essere a me sembra che la morte sia un guaio e poi la domanda è un guaio per quelli che sono già morti o un guaio per quelli che devono ancora morire naturalmente chi fa questa domanda a colui che ha espresso la proposizione precedente non sa se questo gli risponderà un guaio per i morti o un guaio per i morituri per quelli che moriranno prima o poi in questo caso la particella che introduce la interrogativa reale è quel ne che trovate dopo is sotto forma di enclitica is ne il ne introduce una interrogativa reale per cui non sappiamo se la risposta è positiva o negativa nelle due seguenti invece avete due casi di interrogativa retorica nel primo si sa già che la risposta deve essere no num barbarodum romulus rex fuit forse che romolo fu un re di barbari num la risposta per carità romolo no è il re dei romani dei romani non sono certo barbari nell'altro caso con nonne si introduce un'interrogativa retorica a cui si aspetta la risposta si albucius nonne animo equissimo Atenis exul filosofa batur forse che albucio da esule non faceva mestiere di filosofo ad Atene con estrema serenità nonostante l'esilio nonostante il doversi guadagnare da vivere con un mestiere cosa che per un nobile romano non era particolarmente gratificante essendo filosofo era capace di conservare la propria serenità ed ecco il nonne che introduce una domanda a cui la risposta deve essere sì come abbiamo visto per quanto riguarda l'indicativo possiamo anche per il congiuntivo esaminare le caratteristiche più tipiche di questo modo l'indicativo affermava con certezza qualcosa il congiuntivo invece presenta quella cosa come impressione soggettiva o addirittura come fatto da escludere come fatto non reale il congiuntivo può avere delle forme abbastanza diverse quando si presenta come congiuntivo indipendente vediamo il primo esempio nella schermata è un tipico congiuntivo esortativo io ti chiedo di fare qualche cosa io chiedo a qualcuno di fare qualche cosa sed defendat quod quisque sentit ma ciascuno sostenga quello che pensa quisque defendat ognuno difenda ciò che prova ciò che sente quindi ognuno parli a favore di quello che ritiene giusto e qui si esorta ognuno a prendere posizione a difesa delle proprie opinioni lo stesso ante omnia nesit viziosus sermo nutricibus in primo luogo le nutrici non usino un linguaggio scorretto nesit è il contrario di defendat defendat è una esortazione in positivo nesit è una esortazione in negativo il congiuntivo esortativo qualora l'esortazione sia a non fare viene introdotto da questa particella negativa né e non dalla particella non come con l'esortazione così con altre forme di indicazione di volontà che non è la realtà perché c'è una differenza tra ciò che è realisticamente indicativo e ciò che è nelle intenzioni congiuntivo altre forme di volontà vengono indicate attraverso il congiuntivo ad esempio lottativo ottativo è ciò che viene ottato optatum desiderato quando si desidera qualcosa ecco l'uso del congiuntivo te spectem te teneam alla fine dello stesso dico che io possa guardare te che io possa stringere la tua mano dunque è un augurio una speranza che Tibullo esprime relativamente al momento della propria morte queste indicazioni di speranza spesso sono precedute da una particella utinam questo utinam chiarisce immediatamente che ci si trova dinanzi a un ottativo utinam non può essere se non in un contesto di congiuntivo ottativo utinam omnes sante me sententiam rogarentur volesse il cielo che tutti dovessero esprimere il loro parere prima di me letteralmente volesse il cielo utinam che tutti fossero richiesti del loro parere rogarentur sententiam prima di me questo fa riferimento a un uso tipico del senato romano per cui i senatori esprimevano il loro parere secondo un ben preciso ordine di importanza per primo parlava il più importante dei senatori il princeps senatus è il titolo di princeps che ha a che fare come vedete con primus pre prius cioè quello che parla per primo il titolo di princeps è il titolo che augusto volle per sé l'impero romano comincia con questo titolo repubblicano di princeps e successivamente in ordine decrescente di anzianità e di importanza parlavano gli altri senatori qui cicerone spera di non essere tra i primi a dire il proprio parere perché si tratta di una decisione importante in cui non vorrebbe essere costretto a condizionare la scelta del senato stesso se gli altri parlano prima lui si sente più sereno ma come vedete trovate un congiuntivo imperfetto rogarentur e l'uso del congiuntivo imperfetto serve a dire che questa speranza è vana questa speranza non è possibile in quanto cicerone essendo un personaggio di grande rilevanza non potrà essere tra gli ultimi ma sarà certamente fra i primi a dire il proprio parere mentre nel caso precedente avevamo un congiuntivo presente spectem teneam perché Tibullo può sperare che al momento della sua morte la sua donna sia lì accanto a lui nel caso di Cicerone è certo che non avrà nessuna possibilità di ritardare l'espressione del proprio parere e allo stesso modo nell'ultimo esempio utinam me mortum prius vidisses autaudisses utinam te non solum vite sedetiam dignitatis me superstitem reliquissem volesse il cielo che tu avessi potuto vedermi prima morto aver sentito dire prima che io era morto volesse il cielo che io ti avessi lasciato superstite non solo alla mia vita ma anche alla mia carica quindi mi sarebbe piaciuto molto morire prima di te purtroppo questo non è successo e quindi un più che perfetto del congiuntivo vidisses audisses reliquissem che indica appunto una impossibilità che questa speranza si realizzi ancora nell'ambito di questi congiuntivi indipendenti che indicano una volontà ci sono dei congiuntivi che hanno delle sfumature che si sovrappotranno come vedremo a quelli di alcune proposizioni dipendenti il primo esempio che vediamo è quello del congiuntivo concessivo sit per se ips sanus quod nunquam merit per os esseit amen non licebit ammettiamo pure che lui in se per se sia sano di mente sit per se ips sanus sia pure egli sano quod nunquam merit ma non sarà per niente vero ma non è proprio possibile che sia così comunque non potrebbe essere sano se pensiamo a queste persone con cui ha a che fare o nell'altro esempio fu erinti incorrupte littere domi nunc vero quam avere autoritatem aut quam fidem possunt ammettiamo pure che quella lettera a casa sua non sia stata falsata che quella lettera sia rimasta esattamente come era nell'originale ma quale autorevolezza quale credibilità può avere una lettera che viene da casa sua cioè se l'autore porta una lettera in cui c'è scritto io quel giorno tale stavo in quel posto ed è una lettera che sta a casa sua ammettiamo pure che la lettera sia vera ma possiamo credere a una lettera che stava nell'archivio dell'imputato certamente non è un documento oggettivo è un documento poco credibile in questi due casi noi abbiamo avuto dei congiuntivi che esprimono una caratteristica concessiva anche ad ammettere che le cose stiano così il risultato è comunque tale da non consentire di dare un parere favorevole quale qualche uno potrebbe auspicare ancora nell'ambito di queste tipologie di congiuntivo indipendente troviamo il congiuntivo dubitativo il congiuntivo dubitativo è quello che compare spesso con pronomi quid faciam che cosa dovrei fare io sono incerto su quello che posso fare quid rome faciam che potrei fare a Roma quid agam iudices che cosa dovrei fare o giudici quo accusazionis me rationem conferam dove potrei dirigere la logica della mia accusa quove me quome vertam in quale direzione potrei rivolgermi un altro tipo il potenziale quis nostum dic serit melius es turbiter aliquid facile cum voluptate quam oneste cum dolore chi di noi potrebbe dire che sia meglio fare qualcosa in maniera vergognosa ma avendone piacere piuttosto che in maniera onesta ma avendone dolore tutti noi persone rispettabili diciamo sempre che è meglio fare una cosa onesta anche se questo ha per noi conseguenze negative piuttosto che il contrario ancora sempre in questi congiuntivi notiamo come anche per il congiuntivo potenziale ci sia una caratteristica di irrealtà che viene espressa come abbiamo visto per l'ottativo attraverso l'uso di tempi passati del congiuntivo vediamo la prima frase di questa schermata video ita esse facendum et diamante a fecissem sed me multa imperiverunt io vedo che molte cose che bisogna fare così e già da tempo lo avrei fatto avrei cercato di farlo ma sono state molte le cose che mi hanno impedito di farlo fecissem l'avrei fatto ma non l'ho fatto dunque non è vero che io l'abbia fatto alla stessa categoria appartiene il congiuntivo suppositivo reviviscat manius curius et videat eccetera eccetera nonne un comine servum iudicet immaginiamo che manio curio torni a vivere e che veda qualcuno eccetera eccetera e poi l'interrogativa retorica non giudicherebbe non giudicherebbe non riterrà non penserebbe che nonne interrogativa retorica risposta sì reviviscat è la supposizione una supposizione che viene in questo caso immaginata come possibile nell'altro caso invece è impossibile dedisses uic animo par corpus fecisset quodop tabat se tu avessi dato a costui un corpo pari al suo coraggio avrebbe fatto quello che riteneva opportuno quello che desiderava ma quel corpo non ce l'aveva dunque era impossibile che questo tipo di azione si svolgesse abbiamo così completato il quadro del congiuntivo indipendente e veniamo all'ultimo dei modi finiti l'imperativo per l'imperativo in latino dobbiamo distinguere il significato e l'uso dell'imperativo presente da quello che è l'imperativo futuro e soprattutto valutare i vari modi con cui viene presentata la negazione dell'imperativo il comando di non fare e non il comando di fare vediamo nella schermata quando si tratta di un imperativo relativo alle cose attuali noi usiamo un imperativo presente carpe diem un verbo famosissimo una frase famosissima di Orazio prendi il giorno cogli le occasioni del giorno quando invece la frase è legata a una caratteristica particolarmente sacrale come è quella dei trattati come è quella delle leggi o anche relativa alla sapienza comune come avviene nei proverbi abbiamo l'imperativo futuro Deorum Manium Iura Sancta Sunto Sunto è un imperativo futuro siano difesi dalla santità i diritti degli dei mani è una delle antichissime leggi delle dodici tavole con cui si impone di non commettere violazioni nei cimiteri i dei mani sono gli dei dell'aldilà quindi una legge particolarmente impegnativa particolarmente rilevante carica di sacralità come si addice alla tutela dei defunti per l'imperativo negativo invece abbiamo due modi di espressione dell'imperativo stesso che trovate nella parte bassa della medesima schermata il primo è quello più frequente vi ricordate che ne abbiamo parlato nella lezione relativa al verbo volo e ai suoi composti non li te pati me frustra vobbis auxilium petere non accettate non ammettete non sopportate che io in vano vi chieda aiuto io il nipote di masinista in vano vi chieda aiuto nolite pati è la negazione del verbo pazior quindi non accettate nell'altro caso invece anziché nolo più l'infinito avete né e il congiuntivo né terre at vos vanus ad spectus et tau di fulgor at que argenti non vi atterrisca questa vana immagine né terreat è l'altro modo per esprimere l'imperativo negativo è una forma di congiuntivo esortativo preceduto dal né vi ricordate quella frase che abbiamo esaminato poco fa a proposito del discorso che deve avere la nutrice la nutrice non abbia un discorso scorretto una lingua scorretta dunque né terreat è in realtà una esortazione negativa che svolge le funzioni dell'imperativo dopo i tre modi finiti indicativo congiuntivo e imperativo vengono le forme nominali del verbo vi ricordate che a proposito dell'infinito abbiamo detto che esso è essenzialmente un sostantivo che ha una sua declinazione costituita dal gerundio qui per esempio trovate nella schermata scribendirecte sapere est et principium et font sapere il sapere il possedere delle conoscenze che è un sostantivo la sapienza la cultura ecco possiamo rendere con la cultura che è chiaramente un sostantivo è l'inizio e la fonte scribendirecte del retto scrivere della scrittura elegante qui avete all'interno della stessa frase due infiniti i quali corrispondono a due sostantivi uno in caso diretto sapere e uno in caso obliquo scribendi accanto a questo uso nominale dell'infinito c'è anche un uso verbale cioè dei casi in cui l'infinito corrisponde a un verbo vero e proprio e non a un sostantivo e svolge una sua funzione di verbo all'interno della proposizione vediamo alcuni almeno degli esempi della schermata vir bonus ac justus aberi non potest qui abstinet se ab inuria non può essere ritenuto uomo buono e giusto colui il quale non offende per non averne danno né malum abbeat ora aberi è un verbo che si trova all'infinito ma soltanto perché è collegato con un verbo come potest un verbo che noi in italiano chiamiamo servile quindi se invece di aberi non potest avevate non abbeatur non può essere ritenuto oppure non viene ritenuto non si ritiene abbeatur come vedete è un verbo a tutti gli effetti di forma finita nell'altro esempio cesar per exploratore scomperit su ebos sese in silvas recepisse cesare viene a conoscenza attraverso le guardie che erano andate a esaminare il terreno che gli svevi si erano ritirati nelle selve sese recepisse in questo caso l'infinito è il verbo di una intera proposizione studieremo poi si tratta di una proposizione oggettiva perché indica il complemento oggetto di quel comperit se voi avete una frase del tipo cesare conosce la situazione del luogo la situazione è un accusativo complemento oggetto di conosce cesare conosce che gli svevi si sono ritirati nelle selve quella proposizione svolge le funzioni del complemento oggetto ma l'infinito si trova anche in proposizioni indipendenti proprio come se fosse un indicativo o un congiuntivo o un imperativo soltanto però in alcuni casi particolarissimi e limitatissimi essenzialmente due l'infinito storico in cui si fa una narrazione iste unum quod quevas in manus sumere laudare mirari costui prendeva in mano tutti i vasi li lodava li ammirava è ovviamente il caso di uno che vuole poi approfittare della situazione e vede la bellezza di alcuni oggetti li esalta e poi dopo se li prenderà in questo caso sumere laudare mirari vengono tradotti in italiano con degli imperfetti indicativi perché indicano un'azione in svolgimento nel secondo caso abbiamo l'infinito esclamativo mene incepto desistere victim che io debba abbandonare l'impresa sconfitta io sconfitta debba abbandonare l'impresa nel primo caso il soggetto era all'indicativo al nominativo iste nel secondo caso il soggetto era accusativo me come vedete due infiniti che hanno due diverse costruzioni pur essendo in entrambi i casi degli infiniti indipendenti a proposito del participio abbiamo detto più volte che esso partecipa di una funzione nominale e di una funzione verbale è particolarmente importante ricordare sempre e anche questo abbiamo detto che il participio indica prevalentemente un rapporto temporale fra le azioni contemporaneità se il participio è presente anteriorità se il participio è perfetto posteriorità se il participio è futuro vediamo proprio questo caso è l'ultimo nella schermata il participio futuro indica posteriorità cimbertillius quasi aliquid rogaturus propius accessit il cimbro tiglio si avvicinò come se stesse per chiedere qualcosa come se fosse sul punto di chiedere qualcosa propius accessit ancora il participio viene usato per costruire delle particolari frasi che vengono chiamate perifrastiche per l'uso della perifrastica attiva che è una sorta di futuro viene usato il participio futuro vediamo il primo esempio cum apes jamme volature sunt quando le api stanno già sul punto di volare sono in procinto di volare e nella seconda frase fiet tamen illud quod futurum est succederà comunque quello che deve succedere quello che è sul punto di succedere per quanto riguarda invece la funzione nominale del participio il participio lo possiamo trovare come un normale aggettivo sia come attributo sia come predicato a proposito del participio bisogna poi ricordare due specifiche costruzioni del participio medesimo la costruzione del participio congiunto e quella del ablativo assoluto sono due modi con cui il participio viene messo in connessione con le altre parole per creare una frase guardiamo per l'ablativo assoluto greci advenientibus persis termopilas ceperunt i greci all'arrivo dei persiani quando giungevano i persiani quando stavano per giungere i persiani comunque sia a proposito dell'ablativo assoluto sia a proposito del participio congiunto sia ancora di più a proposito delle costruzioni con il gerundio e il gerundivo e in particolare per il gerundivo della costruzione della perifrastica passiva molto di più troverete sul libro voglio solo ricordarvi a proposito della perifrastica passiva che questa frase indica l'idea del dovere guardiamo l'esempio ac tempestate serviendum aut imperandum imperitandum abendus modus est aut faciendus metus est aut faciendus in questa occasione o si deve servire o si deve comandare o bisogna aver paura o bisogna fare paura non c'è scelta usare la violenza o subire la violenza per le altre parti relative alle forme nominali del verbo vi rinvio al volume di testo grazie e arrivederci grazie